Benvenuti nell'arte dell'arredare Ike dove il comfort e le coccole sono le linee guida. In questo video scopriremo come trasformare la casa in un rifugio accogliente e rilassante. Preparati ad immergerti nel mondo dei tessuti morbidi e degli elementi chiave per creare un arredamento appunto Ike. Ciao a tutti e un caloroso benvenuto in questo video. Oggi parleremo di un modo di arredare che incarna il comfort e il benessere, l'Ike. Pronunciato in realtà OGA, l'Ike come si dice da noi è un metodo danese che celebra il piacere delle cose semplici e della connessione con gli altri. Scopriremo insieme come selezionare tappeti, uscini e tessuti morbidi per creare un ambiente accogliente e rilassante. Partiamo dalle fondamenta, i tessuti morbidi. L'Ike si basa sulla sensazione di avvolgersi di morbidezze accoglienti, quindi i tessuti naturali come il cotone biologico e il lino diventeranno i tuoi alleati. Dalle tende ai cuscini, dalla biancheria da letto ai tappeti, scegli materiali che coccolino la pelle e regalino una sensazione di un abbraccio. La scelta dei colori gioca un ruolo fondamentale nell'arredamento Ike. Immagina una tavolozza di tonalità naturali come i beige, i marroni, il grigio e i colori terrosi. Queste sfumature creeranno un'atmosfera di calma e di relax fondamentali per creare un ambiente Ike. Usale quindi come base e poi lascia che i piccoli dettagli di colore come i cuscini o i tappeti aggiungano dei tocchi di personalità senza disturbare l'equilibrio generale. Nel farlo, se utilizzerai dei colori che per te sono davvero felici e legati a dei ricordi positivi, avrai sicuramente fatto bingo. Non so se tu lo abbia già visto, ma recentemente ho creato un video proprio su questo argomento. Te lo lascio in descrizione e qui di seguito. I tappeti non solo definiscono lo spazio, ma lo rendono anche più accogliente. Scegli dei tappeti alti e spessi in materiali come la lana o il cotone. La sensazione di camminare su una nuvola sarà in questo modo impagabile. Posiziona un tappeto morbido vicino al letto o accanto al letto e creerai così un'area di coccole e di relax. L'abbondanza di cuscini è un elemento chiave nell'arredamento Ike. Scegli cuscini di diverse dimensioni e di forme, arricchiti da tessuti vari. Non limitarti al divano, ma aggiungi cuscini anche a delle sedute come le panche, creando angoli di comfort inaspettati. Ogni cuscino è un invito a sedersi e ad essere abbracciato e rilassarsi. L'Ike abbraccia anche il concetto di stratificazione, cioè sovrapponi, coperte, cuscini e tappeti per creare un'atmosfera di calore e accoglienza. Un plaid adagiato su una sedia o su un divano ad esempio è un invito irresistibile ad una coccola. Sperimenta diverse texture dal velluto al cotone intrecciato per creare una profondità tattile. La connessione con la natura è un pilastro nell'arredamento Ike. Integra elementi naturali come il legno e la pietra nella tua decorazione di casa. Un tavolino in legno grezzo ad esempio o delle mensole in legno naturale aggiungeranno un tocco di autenticità allo spazio. Anche piccoli oggetti in pietra o minerali aggiungeranno un senso di serenità. Quando le serate si fanno più fresche nulla è più invitante di una coperta soffice o di un plaid avvolgente. Posiziona cesti di coperte in diversi angoli di casa perché saranno un invito costante a concedersi un momento di coccola e di relax e accanto ad una tazza di te caldo o di una cioccolata il comfort diventa ancora più coinvolgente. Crea angoli di speciali dove rilassarti, aggiungi un piccolo tappeto, una sedia accogliente magari ad ondolo o sospesa e una lampada da lettura. Qui potrai dedicarti a te stesso o te stessa immergendoti in un libro o semplicemente contemplando la vista fuori dalla finestra. Quest'angolo sarà il tuo rifugio di pace. Oltre agli elementi fisici è importante poi creare un'atmosfera accogliente generale. Accendi candele profumate e posizionale in punti strategici di casa. La luce soffusa e le fragranze delicate creeranno un'atmosfera magica e avvolgente. Non dimenticare poi una dolce colonna sonora di sottofondo perché la musica giusta potrà amplificare le sensazioni di comfort. Ora hai gli strumenti per abbracciare lighe nella tua casa. Tessuti morbidi, cuscini accoglienti e tappeti coccolosi trasformeranno ogni angolo in un'oasi di benessere. Lascia un like se hai trovato utili questi consigli e iscriviti per ulteriori idee su come creare ambienti di benessere. Grazie per aver condiviso questo viaggio di comfort e serenità con me. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver guardato il video.